La ricerca è un campo importante per l'università, in tutte le università del mondo. L'evaluazione del corso è difficile. Abbiamo dei problemi in Italia, e anche in Europa, la humanità e la scienza sociale. Perché le metodi bibliometriali non sono molto popolari, non sono un sistema standardizzato. Abbiamo scelto tre sistemi diversi. Abbiamo usato questo sistema per evaluare i departamenti. H-Index, numero di citazioni, accumulativi per il departamento, e numero di pubblicazioni, in termini di impatto o altri. Abbiamo scelto tre anni per capire il buono e il buono dei sistemi classi basati su H-Index o impatto. E' evidente che il sistema non è completo. Per esempio, Open Access e giornali come Plus One. Il numero di download è un metodo per l'evaluazione o non? Il numero di patente per la ricerca è importante o non? Il numero di invitati a conferenze o importanti metri nel mondo è un aspetto importante o non? Abbiamo bisogno di avere un sistema complesso, perché la scienza e la ricerca sono un sistema complesso. Abbiamo bisogno di molti indicatori per evaluare la progressione del lavoro di questi scientifici in un departamento specifico, in un solo università o in un solo campo di scienza. Per esempio, Plamex è un buon sistema per me in modo da mettere molti indicatori per l'evaluazione. Come rector, un sistema come questo potrebbe essere molto importante per me nel futuro. In modo da distribuire i risultati in diversi departamenti o in diversi gruppi di ricerca, per assicurare un'evaluazione particolare o possibilità di numeri di PhD a questo particolare campo o non? Penso che questo potrebbe essere anche utile per un solo ricerca in modo da evaluare il suo stesso. Cosa per i miei giornali? È importante pubblicare in un campo particolare o non? Se pensate, per esempio, in mio campo, io sono un geneticista, se lavorate su risultati, risultati risultati, ma potete scoprire un nuovo meccanismo di una nuova malattia. Potete pubblicare questi risultati in un giornale di impatto come la natura o la genetica natura. L'impact factor è molto alto, ovviamente. Ma quanti citazioni potete ricevere? Quante persone lavorano su questa malattia nel mondo? Molto. Ma se lavorate in aterosclerosis, l'aterosclerosis è un campo importante per l'arte, per la cardiologia. Molte persone nel mondo lavorano su questo particolare. in questo campo, i vostri risultati in questo campo saranno ricevuti un molto alto numero di citazioni. Ora, pensate di un ricerciatore o un studente PhD chiede a me «Professor, cosa suggerisci a me? Cosa suggerisci per la mia ricerca? Inizia con una malattia o una malattia molto comunale? Se lavoro su questa malattia, qual è la possibilità di ricevere citazioni?» Questo è il problema dell'evaluazione. ora. E' un cambiamento in questo sistema che può aiutare la nostra ricerca a decidere qual è il campo che è buono per loro. Inizia 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 Inizia